Ci si rincontra Cerchio K attraverso Marco a cura di VB domanda Qual è il motivo per cui ci si rincontra nell'aldilà? Entità beata Quelli tra i quali vi è un legame spirituale forte e reale si rincontreranno Quelli che invece vivono il rapporto con gli altri come se questi fossero per loro delle comparse Non lo faranno Perché i primi hanno compreso che tutto questo ha un senso reale Gli altri invece non hanno parlato con delle persone con dei sentire Ma con degli automi e quindi non si rincontreranno più Perché chi non fa scaturire nei propri rapporti una fiamma, un fuoco Non riesce poi a suscitarlo in altri Cioè Se tu non senti l'altro dentro te Se tu non senti l'altro come parte di te Se tu non ti senti legato a lui Se tu non hai amicizia verso di lui Ma lo vedi solo come una rappresentazione Quello realmente è una rappresentazione Perché da te voluto essere tale È un parto della tua percezione E quindi non lo incontrerai Però nel momento in cui tu lo senti come un legame veramente forte Allora questo si ricreerà ancora più forte Perché il legame creato dall'amore non può essere che indisolubile In una creazione ove tutto è giustizia e legge Il vero amore è come tutto l'insieme dei sentimenti umani Un karma che si accende Quando tu ami e non vedi l'altro come una comparsa Tu accendi questo karma E ci si incontra anche nell'aldilà Quando c'è un legame nei piani più densi Quindi vi incontrerete nel cosiddetto aldilà E forse molti di voi faranno parte di una comunione astrale e mentale Nota della guida psichica Noi intendiamo per comunione un gruppo di entità del piano astrale o mentale Le quali vivendo lo stesso stato di coscienza Insieme lavorando nella comprensione Un giorno lo supereranno Domanda Quando tra due persone non c'è contemporaneità del sentire L'incontro avviene lo stesso nel cosiddetto aldilà? Entità beata Ci sono molte meno possibilità Deve essere un sentire da una parte sola Talmente forte Da calamitare questo incontro Da crearlo Ma è molto difficile Tutto questo, ripetiamo Avviene solo e sempre se vi è un legame spirituale Un vero amore